La decentralizzazione è il futuro della finanza e in particolare nel mondo delle cripto sempre più persone si stanno spostando verso la finanza decentralizzata, verso soluzioni, exchange proprio in DeFi. La curva di adozione è esponenziale, sta crescendo veramente molto velocemente perché man mano che si va avanti diventa una tecnologia sempre più accessibile, sempre più semplice da utilizzare, veramente alla portata di tutti. E in particolare in questo video voglio parlarti di uno dei DEX che secondo me è un gigante dormiente, un DEX che sta sviluppando molto veloce e che sta portando in scena veramente tantissime soluzioni che rivoluzioneranno il mondo proprio della finanza decentralizzata e dell'operatività in finanza decentralizzata. Stiamo parlando di The Gate. Che cos'è The Gate? The Gate è un layer 2 di Ethereum, quindi un protocollo che sfrutta lo ZK roll up per rendere le commissioni estremamente basse e la velocità operativa molto elevata. Rispetto alla maggior parte di altri exchange decentralizzati o gli AMM, quindi Automated Market Maker, The Gate si basa sugli order book, consentendo quindi anche l'utilizzo di ordini al limite. Però andiamo a vedere velocemente una panoramica per renderci conto di che potenzialità ha proprio questo DEX e di quanto è comodo da utilizzare per operare in DeFi. Ha già attualmente oltre 229 token listati, più di 58.000 trades, un volume superiore ai 2 miliardi e un valore totale bloccato di 51 milioni e mezzo. Quindi già comunque un bel DEX, bello grosso. Qui vediamo i partners, cosa importantissima verificato da L2Bit è attualmente l'unico DEX verificato su L2Bit in fase 2. Ad oggi non ci sono altri DEX totalmente verificati ZK in fase 2. Qui ci mostra tutti i punti forti, ma ti voglio mostrare molto velocemente quelle che sono le caratteristiche importanti. Io da trader ho scelto di utilizzare DEX perché mi dà un'esecuzione degli ordini veloce, mi dà bassissime commissioni addirittura gratuite per chi va a limite e vedremo tra poco come, e multichain. DEX infatti si sta aprendo multichain, ha già alcune soluzioni tramite rapid token e tutta una serie di funzionalità, però si sta aprendo crosschain e l'obiettivo, piccolo spoiler, è quello di dare uno spazio unico dentro cui operare. Perché chi si muove in DeFi, se voglio lavorare sulla rete di ETH devo avere il mio wallet da connettere a un DEX o comunque un exchange in rete ETH. Poi se voglio farlo su Solana devo avere un wallet per Solana, se voglio farlo su Cosmos devo avere un wallet per Cosmos e così via. Bene, l'obiettivo di The Gate è quello di diventare e dare quella che è l'esperienza tradizionale che abbiamo sul mercato centralizzato con il classico exchange, a cui ci registriamo con email e password, portare quella stessa esperienza utente in DeFi. Ciò significa che molto presto io potrò dentro The Gate detenere più token, inviare più token, da più reti e transare crosschain, fare la mia operatività. Esattamente come se fossi su un checks, acquistare per esempio Solana o acquistare direttamente Sui e altre coin e a quel punto posso poi prelevarmele, inviarmele a qualsiasi indirizzo dedicato, wallet, Solana piuttosto che. Quindi veramente uno spazio unico dentro cui tradare, usare, scambiare le mie crypto preferite crosschain. Questa secondo me è la rivoluzione, poi la vera sfida nel mondo della DeFi e The Gate sta risolvendo molto bene questa sfida qui. Trustless. Gli users, quindi noi che utilizziamo questo exchange, siamo sempre in pieno controllo dei nostri asset. Sì, noi andiamo a depositare sul DEX per poter operare, ma sono gestiti da smart contract. Quindi se il DEX dovesse venire vietato per esempio nel mio paese o venisse bloccato, che ne so viene hackerato, qualsiasi tipo di problema immaginabile ci possa essere, quindi materialmente io non ho la possibilità di accedere al DEX, andare su TheGate.com e prelevarmi i fondi, Beh, in ogni caso io posso comunque farlo tramite quella che si chiama l'Exodus Mod, che tramite smart contract mi permette in modo molto facile, comunque è applicabile da tutti, c'è una guida che ha creato TheGate e magari te la lascio qua sotto a titolo informativo. Seguendo quella guida tu puoi comunque accedere ai tuoi fondi perché sono controllati da smart contract e perché sono sempre effettivamente in tuo possesso. Quindi la sicurezza al top è la cosa fondamentale quando si parla di queste cose. Trasparente, tutte le transazioni sono on-chain e visibili su Ethereum Layer 1 e poi assicurato dallo zero knowledge. Quindi utilizza un sistema avanzato criptografico per la sicurezza, per incrementare la sicurezza e la scalabilità. Vediamo il confronto tra CX ed EX, giusto per capire quali sono le funzionalità e che cosa permette di fare TheGate rispetto a tutti gli altri. Beh, rispetto agli exchange self-custody of asset, cosa significa? L'autocustodia, nel momento in cui utilizziamo un exchange centralizzato diamo la custodia ai nostri asset a loro. Se fallisse come per FTX sono guai, quindi io qua non ho la mia custodia. Mentre sugli exchange decentralizzati ce l'ho, sì, e nel caso di TheGate, idem. Low fee, sì, hanno delle fee basse gli exchange centralizzati, ecco perché la maggior parte di persone li usa. Mentre i DEX tendenzialmente hanno delle fee molto elevate, soprattutto se su rete TH. Beh, nel caso di TheGate le fee sono uguali, paragonabili a quelle dei CX, proprio grazie ad una tecnologia che si chiama ZK Rollup, che praticamente fa una cosa molto semplice. Cioè va a prendere, immagina, le transazioni e le mette tutte insieme. Tendenzialmente gli altri DEX cosa fanno? Io faccio una transazione, per esempio ipotizziamo di voler comprare ETH, e di conseguenza per comprare ETH voglio darvi a USDT, quindi vendo USDT. Quindi per fare questa transazione, questa è una transazione, e tu paghi delle gas fee per questa transazione. Come funziona lo ZK Rollup? Lo ZK Rollup funziona così. Io prendo una scatola e dentro questa scatola vado a metterci tante transazioni. Quindi ci cadrà la mia, ci cadrà quella tua, ci cadrà quella di un'altra persona. Metto tante transazioni qua dentro, quindi riempio la scatola e poi la eseguo come un'unica transazione. Quindi pagherò le gas fee per un'unica transazione, gas fee che poi verranno divise in proporzione a tutti quelli che ci sono dentro questa scatola, tutte le transazioni dentro questa scatola. Di conseguenza è molto più economico perché faccio un'unica transazione anziché farne tante, pago un'unica gas fee divisa tra tutti e questo mi permette di avere delle commissioni bassissime al pari dei checks. Addirittura nel caso in cui io adesso facessi ordini a limite per esempio, quindi se fossi un market makers, beh ho le commissioni gratuite, quindi non c'è veramente ragione per non utilizzare questo DEX. Poi transazioni veloci, sì i checks hanno transazioni molto veloci, i DEX sono migliorati nel tempo però ad oggi non hanno transazioni così veloci. Nel caso di The Gate vediamo sono estremamente rapide. Trustless, beh ovviamente nel caso degli exchange centralizzati dobbiamo fidarci dell'exchange su cui stiamo depositando, cioè è sostenibile, è grosso, può effettivamente mantenere i soldi anche se abbiamo visto come appunto nel caso FTX, che non importa quanto sia grosso, possono fallire. Quindi i nostri fondi sui checks, qualsiasi checks sono sempre 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 in pericolo. Nel caso dei DEX sono tranquillo perché ho i miei fondi tecnicamente autogestiti, no? Self custody, quindi funziona senza fiducia. Nel caso di The Gate invece abbiamo un DEX verificato in fase 2 da L2Bit, l'unico. Un DEX estremamente avanzato da questo punto di vista. L'accesso ai dati, ovviamente nell'exchange centralizzati non abbiamo, in molti DEX neanche. Nel caso di The Gate sì, è tutto su Ethereum Layer 1, quindi possiamo vedere tranquillamente tutto. Trasparenza, di conseguenza nei checks lascia stare. Nel caso dei DEX tendenzialmente c'è, perché io vedo su blockchain che tipo di operazione ho fatto. Stessa cosa ovviamente su The Gate. Order book, questa è una parte importantissima soprattutto per chi fa trading, trading spot. Sui DEX tendenzialmente non c'è questa funzionalità. Sui checks c'è, ed è il motivo per cui vengono utilizzati, perché gli order book non solo ci danno la possibilità di avere un controllo maggiore sul prezzo, ma ci danno anche una profondità di mercato diverso. Di conseguenza avere gli order book era una delle sfide e una delle sfide importanti nel mondo della finanza decentralizzata. Sfida che The Gate ha vinto creando proprio una soluzione che integra gli order book. Vediamo attualmente qualche mercato. Vediamo che ci sono per esempio Bitcoin Wrapped, ETH classico, Wrapped Solana e tutta un'altra serie di token. Ci saranno poi ovviamente anche le versioni classiche, perché come ho detto The Gate diventerà cross-chain. Qua vediamo la roadmap, come sono andati avanti, che cosa stanno facendo adesso, la fase 5, la scalabilità che porterà appunto The Gate ad essere totalmente cross-chain. Attualmente come ci si può collegare, come si può utilizzare The Gate? Io clicco trade. Come vediamo qua la piattaforma si presenta relativamente semplice, cioè ha esattamente l'interfaccia che ha un exchange centralizzato con il mio order book, con il selettore delle coin, qua vediamo tutte le varie coin listate, sono veramente tantissime, ordini aperti, cronologia ordini, storico degli scambi e abbiamo poi acquisto, vendita. Molto semplice anche questo, posso andare a mercato o a limite e mi dice poi quanto di commissioni, se vado ovviamente a limite ho il maker gratis, quindi non pago commissioni. Come ci si connette? Non servono email, non servono password, ricordo siamo in finanza decentralizzata, quindi che cosa ci serve? Io posso connettermi con Metamask, posso connettermi con Wallet Connect o posso connettermi con un normalissimo ledger. Ipotizziamo di volerci connettere con Metamask, ecco in questo caso mi sono connesso, mi sono connesso al mio Metamask, però posso connettermi anche a altre reti, non solo ETH. Posso per esempio connettermi attualmente a Optimism e Arbitrum in modo da pagare commissioni più basse. Che tipo di operazioni posso fare? Posso fare il classico acquisto e vendita come ho visto qua, posso piazzare ordini a limite, ad esempio qua sono sul cambio ETH, USDT, se volessi comprare ETH a 2K posso andare qua a limite, scrivere a quanto voglio andare a comprare, ad esempio 2K, quante ETH voglio comprare oppure quanti USDT, quindi quale controvalore perché magari non so esattamente a quanti ETH corrisponde perché voglio investire 100 dollari, e allora qua scrivo 100 USDT e mi dice in automatico ovviamente quanto comprerò. Poi andando, essendo un ordine a limite, a cliccare solo Maker, in questo modo le mie gas fee saranno azzerate. Nel caso invece di un'operazione di mercato, qui ricordo siamo su ReteTH, ti voglio mostrare cosa potrebbe costare la gas fee, ecco qua, vediamo la gas fee massima, sono 0.015 centesimi, quindi su 100 dollari pago al massimo 0.015 centesimi di dollaro, quindi stiamo parlando di uno 0.01%, molto 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 estremamente più basso per essere spot rispetto ai checks tradizionali, quindi veramente non ci sono scuse per non utilizzare The Gate per operare. Piccola chicca in più, The Gate avendo degli order book ci va a dare delle funzionalità incredibili, che sono 1. il DCA, sì posso creare dei piani d'accumulo su The Gate, perché magari voglio accumulare il mio token preferito, che sia Ethereum, che sia Solana, qualsiasi token sia, io posso andare a fare un DCA, un piano d'accumulo in acquisto o addirittura in vendita, cosa che la maggior parte di altri exchange non permette di fare. Non dico i DEX, perché sui DEX questa funzionalità qui non l'ho vista praticamente a nessuna parte, lo dico sui checks, sui checks sì, ci sono queste funzionalità qui, ma sui DEX è veramente raro trovarle. Ora nel caso acquisto, io ipotizziamo sono sempre sul cambio TH o SDT, voglio acquistare, posso dirgli acquistami giornalmente, settimanalmente, oppure dirgli io ogni quanto acquistare, ogni mese, ogni ora, ogni minuto, posso personalizzarlo come meglio credo. Posso poi creare una data d'inizio, quindi scegliere quando partire, se partire ora, partire domenica, partire venerdì, partire lunedì, posso decidere io, e quando finirà. Poi gli do l'importo, esempio, gli dico guarda, comprami 100 dollari ogni volta. Gli dico poi, a seconda di quando voglio finire, mi dà un totale, mi dice quanto servirà da investire. Attenzione, io posso far partire il piano, non devo bloccare questi fondi, perché lui va a crearmi un piano. Questo piano di acquisto, per esempio, di 100 dollari, qua mi dice farai 5 ordini in questo range di tempo, non vuol dire che io devo dargli 500 dollari e lasciarli bloccati lì, no. Io devo sapere che, qua stiamo iniziando quando? Stiamo iniziando di 25 ottobre, quindi stiamo partendo di venerdì. Ogni venerdì io devo avere almeno 100 dollari sul mio saldo totale, sul mio bilancio, per poter acquistare effettivamente le mie valute, i miei ETH. Quindi devo lasciargli questo saldo qui, molto semplicemente. Posso fare lo stesso anche per vendere, perché magari ho comprato a un buon prezzo, ora vedo che siamo, che ne so, in una fase di picco, voglio vendere, posso avviare il mio DCA in vendita ogni settimana, ogni giorno, ogni ora e andare a vendere anche a rialzo. Altra funzionalità estremamente interessante, e qui faremo un video dedicato, perché merita veramente per come è strutturata, è la grid bot. La maggior parte di soluzioni exchange centralizzati adesso ha iniziato a integrare le grid, ma molti, quasi tutti i DEX non lo hanno. Nel caso di the gate c'è, proprio perché utilizziamo l'order book e quindi degli ordini al limite, possiamo automatizzare strategie di trading. Cosa significa? Significa che io posso andare a crearmi appunto delle griglie entro cui fare ordini, comprare e vendere. Abbiamo ovviamente una soluzione automatica, basato su AI, ci dà un'idea di quello che dobbiamo fare, ci c'è quanto dovremmo investire più o meno, l'intervallo di prezzo e quello che potrebbe rendere. Abbiamo anche la soluzione manuale. Esempio qua, sono su ETH, vado a guardarmi. Il range più basso di ETH, qui era 2164 per dire, mettiamo 2164 range più basso, range più alto mettiamo 4000. Quanto voglio investire in WESDT? Mettiamo per esempio, voglio investire un K. Numero di griglie, quante griglie posso creare con un K? Puoi creare per esempio 40 griglie. Ne facciamo tipo, ne voglio creare 50, come vedi mi dice no, l'importo minimo ti mancano 20 dollari. Quindi è anche molto comodo a questo punto di vista. Il massimo che posso raggiungere, posso fare con 1000 dollari, sono 40 griglie entro questo range. Che è già una bella griglia fitta, mi dice quanto riceverò più o meno per ogni griglia, l'APY stimato e qua visivamente mi mostra come si muoverà. Cosa succede? Che ovviamente mentre il prezzo si muove, quando scende compra, quando sale vende, e poi va via via in modo dinamico ad aggiornare la griglia. In questo caso ovviamente non abbiamo le commissioni, perché stiamo andando a lavorare su ordini a limite. Ordine minimo per ognuno di questi livelli sono 25 dollari, quindi per chi vuole operare a limite il minimo sono 25 dollari per ogni ordine. Se no il mercato può eseguire anche 2, 3 dollari, 4 dollari, poi dipende dal portafoglio di ognuno. Però a limite questa è la cifra minima. Ciò significa che se io voglio creare una griglia da 10 ordini, devo contare che ognuno di questi ordini è un ordine a limite, e quindi mi servono almeno 25 dollari per il numero di griglie. Quindi in questo caso 250 dollari di capitale da dedicare a questa strategia qui. Se ne volessi mettere di griglie 100, dovrò dedicare 25 dollari per 100, quindi 2.500 dollari e così via. Quindi un DEX assolutamente completo, un DEX che ha al suo interno tutte le funzionalità che dovrebbe avere un DEX, tutte le funzionalità di un exchange centralizzato con dei vantaggi sostanziali. Il primo è la sicurezza, i fondi sono sempre in mio possesso e posso accedere in qualsiasi caso anche se ci fossero problemi alla piattaforma. Non devo per forza avere quel token e quell'altro token per pagare le gas fee perché se io voglio operare su rete Solana devo avere un wallet per Solana, devo avere dei Sol e utilizzarli per pagare le gas fee. No, nel caso di The Gate io posso depositare e come hai visto le gas fee nel cambio ETH a USDT me le chiedeva in USDT. Quindi io posso tranquillamente operare, scambiare, swappare, fare trading, utilizzare gli ordini al limite, tutte le funzionalità insomma che ha The Gate e che hanno gli exchange centralizzati ma in finanza decentralizzata senza dovermi preoccupare di avere quel token specifico per pagare quelle fee e quello di là e tutta questa roba qua. No, su The Gate diventa tutto estremamente semplice e alla portata di mano. Quello che dico sempre io è immagina The Gate come un exchange normale centralizzato e può essere un Binance della situazione ma in finanza decentralizzata. Le stesse funzionalità, le stesse dinamiche, le stesse cose. Un'altra cosa importante in ottica di sicurezza è il bug bounty che hanno su The Gate. Che cos'è? Sostanzialmente è un impegno da parte di The Gate per trovare errori nel protocollo e quindi innovare e migliorare sempre di più la sicurezza. Per chi trovasse errori nel protocollo, segnalandoli The Gate mette in paio 1.11 milioni di dollari come ricompensa. Questo incentiva la community a trovare errori da riportare a The Gate in modo da risolverli e quindi diventare sempre un exchange migliore man mano che si va avanti. Altre caratteristiche come abbiamo detto la quantità di token che abbiamo disponibili come vediamo ci sono tantissimi tipi di cambi abbiamo detto più di 200 token abbiamo anche token più piccoli abbiamo token di altre chain abbiamo veramente un sacco, un sacco, un sacco di scelta un sacco di cose che possono essere utilizzate compreso il Drapid Bitcoin per chi è interessato a tradare, operare su Bitcoin ma in finanza decentralizzata abbiamo detto si possono aggiungere e ritirare fondi tramite TH, Arbitrum o Optimism per abbattere ulteriormente le fee personalmente uso la rete di ETH perché è più grossa, per me è più stabile e visto che le commissioni su The Gate sono bassissime piuttosto preferisco andare su una rete ETH e pagare proprio quei centesimi in più rispetto che andare su altre reti però ognuno poi sceglie in base alla propria esperienza e al proprio portafoglio che dire a questo punto provalo ti lascio qua sotto nella descrizione del video il link per testarlo ti lascio anche tutti i documenti importanti che ti possono servire in ottica di sicurezza di funzionalità, di commissioni in modo da avere uno specchietto chiaro di ciò che è The Gate di ciò che rappresenta qualsiasi domanda scrivila qua sotto nei commenti in un'era sempre più centralizzata riuscire a operare in finanza decentralizzata esattamente come si fa in Cefai ha un valore estremamente elevato e ad oggi con The Gate puoi farlo